Nove anni fa i giornali uscirono a titoli di scatola, a tutta pagina, in prima pagina con la notizia che nella Clinica degli Orrori, il Santa Rita di Milano era stato arrestato un medico farbutto, un mostro, si chiamava Brega Massone, che uccideva i malati, uccideva i pazienti un po' per sadismo, forse chissà, un po' per fare soldi, per prendere le parcelle. Brega Massone, si chiamava Brega Massone, questo mostro è stato processato, è stato condannato all'ergastolo, poi è stato processato in appello, di nuovo ergastolo, adesso la Cassazione ha stabilito che non c'era dolo, quindi che la condanna all'ergastolo non vale, quindi che bisogna rifare la condanna eventualmente per un altro delitto, ora provo a spiegarvi bene come andarono le cose, intanto vi dico una cosa, chissà perché i giornali non hanno trovato clamorosa la soluzione della Cassazione, piccole notizie, qualche notiziola, eppure questo era il mostro, il mostro dei mostri, un medico così cattivo che non si era mai visto, è una storia molto brutta, perché è una storia di mala giustizia e una storia di linciaggio, mala giustizia perché il processo è stato fatto davvero male, naturalmente né voi né io, tranne forse alcuni di voi che sono particolarmente esperti in medicina e sono in grado di giudicare le cose concretamente, però di giudicare la forma sì, la forma è molto semplice, innanzitutto sono stati contestati a Brega Massone quattro omicidi, perché quattro pazienti sono morti durante o dopo l'operazione, quattro pazienti su centinaia e pazienti di una malattia molto grave, il tumore al polmone, Brega Massone opera al torace e opera con una tecnica particolare che è stata giudicata dalla Corte Assassina, peraltro i pazienti non erano giovanissimi, 3 dei 4 erano fra gli 80 e i 90 anni, quindi le probabilità anche di un esito in fausto dell'operazione erano abbastanza alti, fecero tutti causa civile a Brega Massone e Brega Massone ha vinto tutte le cause civile, quindi la sua condanna penale è avvenuta dopo che un tribunale civile aveva detto che era innocente, esiste un articolo del codice di procedura che prevede che in caso di ragionevole dubbio non si può condannare, io avrei pensato che una sentenza di assoluzione di un tribunale civile potesse essere un ragionevole dubbio, c'è di più, per stabilire se erano colpevoli o no le operazioni che fece Brega Massone, ci fu una perizia di parte degli avvocati di Brega Massone e una perizia di parte del Pubblico Ministero, risultati opposti, il perito di Brega Massone era un luminare della chirurgia toracica, risultati opposti, cosa fa in questi casi il tribunale? Nomina un perito d'ufficio, un perito indipendente, questo chiese la difesa di Brega Massone, nominate un perito indipendente perché nessuno può stabilire sulla base di due perizi opposte e nessun magistrato è in grado di stabilire chi ha ragione perché nessun magistrato è un medico, gli fu negata, ci fu addirittura durante il dibattimento, uno dei due dibattimenti la Presidente del Tribunale che interruppe la difesa, disse basta con queste obiezioni, l'ha già scritto Repubblica, l'ha già scritto il Corriere della Sera, l'ha già scritto la stampa, ci sono tutte le registrazioni, è tutto sui giornali, perché dobbiamo perdere tempo qui, ti mostrò che i processi li fanno i giornali, non li si fa in dibattimento, tanto che la televisione diede uno sceneggiato, uno sceneggiato prima della sentenza d'appello, uno sceneggiato sul caso del mostro, nel quale il mostro era colpevole, ora la Cassazione dice che non c'era dolo e quindi la sostanza del doletto sfuma, scompare, vedremo poi con quali motivazioni, intanto io ho una modesta proposta, che la RAI che mandò in onda quello sceneggiato che linciò Brega Massone, sbagliando il racconto, ne faccia un altro, un nuovo sceneggiato nel quale si racconta che non c'era nessun dolo nella operazione di Brega Massone.